Cadono i confini regionali, dal 3 giugno l'Italia si rimette in moto, gli spostamenti infraregionali arrivano sulla scorta di un trend dei contagi in discesa. Una boccata d'ossigeno per il paese, mentre tira un sospiro di sollievo anche l'economia turistica tanto sul fronte nazionale quanto sul versante regionale. È una notizia importante soprattutto perché questa decisione di riaprire le frontiere con le altre regioni dal 3 giugno significa prima di tutto che il Comitato Tecnico Scientifico e gli Istituti Superiore di Sanità hanno valutato che la situazione sanitaria sia notevolmente migliorata. Oggi noi abbiamo bisogno soprattutto di fare lavorare le nostre imprese del settore turistico, gli hotel, i campeggi, i parchi, i ristoranti e quindi fare ripartire il turismo, rimettere in moto questo grande motore dell'economia turistica nazionale è molto importante. Poi naturalmente ci auguriamo che anche le frontiere con alcuni paesi europei possano riaprire il prima possibile, si parla del 15 giugno, noi siamo pronti come regione con una campagna promozionale anche nei confronti dei paesi di lingua tedesca oltre che naturalmente sul territorio nazionale. Buono il bilancio dei primi giorni di riapertura delle spiagge. Credo che giugno sarà un mese di sperimentazione dove speriamo di poter lavorare soprattutto nei fini settimana, però devo dire che il bilancio per il momento è un bilancio positivo perché sostanzialmente e nella maggior parte dei casi tutte le persone, i clienti rispettano le prescrizioni, le regole previste nei nostri protocolli che sono stati poi assunti anche a livello nazionale come un riferimento per tutte le regioni. Nel tempo sono stati potenziati anche i trasporti. Dal 14 giugno, grazie a questo accordo con Trenitalia, avremo la possibilità di portare sulla costa adriatica molti treni di alta velocità, aumentando e potenziando le corse del 2019, anche con un accordo importante con gli albergatori che volontariamente potranno anche rimborsare i turisti del costo del biglietto e quindi incentivare ulteriormente la mobilità verso le località della costa.